Un uomo d'onore non va a dire a uno qualsiasi, io sono un uomo d'onore. Fa vedere la sua potenza occulta alle spalle. Lei deve sentire il mio peso quando io mi avvicino a lei. Deve sentirlo velatamente. Io non vengo con una minaccia da lei, sempre verrò sorridente. E lei sa che dietro quel sorriso c'è una minaccia che incombe sulla sua testa. Io non verrò a dire a lei, io a lei farò questo, questo. No, se lei mi capirà bene, se non mi capirà, lei ne soffrirà le conseguenze.